Dai microfoni di Radio Messina uno special e dagli spalti del Celeste del San Filippo di strada Natale Munaone ha fatta di strada la sua bellissima voce e lo ha portato a vincere per la seconda volta uno dei concorsi canori più importanti d'Italia. La diciassettesima edizione di Italia in canto il talent canoro dedicato agli over 50 organizzato dall'associazione 50 e più è stata vinta si legge su tutti i giornali napoletani da Gabriella Bellocchio di Sorbolo di Parma e da Natale Munaone di Messina che in coppia hanno cantato Vivo per lei brano portato al successo da Andrea Bocelli e Giorgia. L'evento canoro dedicato ai più grandi successi della tradizione musicale italiana si è concluso con la finale al Teatro Mediterraneo di Napoli dove 24 cantanti da tutta Italia e di cui due duetti si sono esibiti davanti a un pubblico delle grandi occasioni accompagnati da un'orchestra diretta dal maestro Ghetano Raiola. I vincitori della Kermesse che con la loro interpretazione hanno conquistato il voto della giuria artistica del pubblico più di mille le persone presenti. Vincitrice del premio della critica nella precedente edizione Gabriella Bellocchio della vita è assistente familiare e canta in un coro lirico da tre anni. Natale Muna oggi a disco d'oro nella sedice di medizione lavora in una casa di riposo con le reale allietando come animatore gli ospiti con la sua voce a decretare i vincitori insieme al giudizio del pubblico una giuria d'eccezione composta da Peppino Di Capri, Silvia Mezzanotte, Enrico Bonaccorti, Michelangelo Iossa e Renato Borghi presidente nazionale 50 e più e poi i voti del pubblico.